...sì, questo è il capitano... ...allora, non suoniamo il classo mentre scelgo le due ruote, eh? ...la prossima, signori, interpreterò il ruolo del cattivo... ...a volte, a volte, io non ho capito... ...al 13 dicembre al Teatro della Luna, perché noi, oltre a fare immagine, facciamo anche gli attori... ...i musicisti, i musicisti... ...e anche altre cose che adesso non possiamo dire... ...signori, eccoli qua, pronti, ci mettono a conto... ...tra l'altro abbiamo preparato il pezzo lì a Iurimaro sul Studio Delta che è lì da due anni... ...ma c'è la mani... ...perfetto, bello, bello... ...perfetto, bello... ...vole sentire l'applauso del pubblico perché più battono le mani, più gli strumenti suonano, come l'orchestra qua, eh? ... ...si rilassano, si calmano... ...signor Giugno, in essenza... ...si mettono d'accordo... ...e si parte... ...sebrano gli elefanti... ...sobri... ...sobri un mare... ...sobri un pezzone... ...non è un muretto che ci puoi attaccare, eh? ...avanti... ...dol'altro... 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 ...neanche i pachidermi del Circo Tonni si muovono con queste... ...con queste leganze... ...ecco, cambiano auto... ...si cambia auto... ...il motivo a noi è sconosciuto... ...contringli... ....ne un grosso di patologie, un giro... ...ia un' chiave... ...dol'altro... ...dol'altro... ...c'è tipo di parare... ...dol'altro d'altro... ...i chi è capelli... ...sono ieri... ...è un'indicälltote... ...al home dog... ... กlino... ...ol'altro... ...voteva le riconoscere. Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda come nei concerti a Cava Ceceli signori le due ragazze c'è vero è un buon freddo eh? come faccio le ragazze? o c'è stato di eh? no, ma vedete qua più in mezzo ma no 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 andiamo più indietro ferma qua eccoci è proprio l'energia è proprio l'energia ma dov'è? ah no però potrei fare una ragazza guarda scendo a punta quindi Quindi, no vado a l'energia, voglio rimanere, vengo nel mezzo, come basta, perché questo è finito così, vedete, signorini, vediamo, prego signorine pronti, prego facciamo scendere, signorine, fate un applauso a queste signorine coraggiose, vengo nel mezzo adesso, posso? Venite, venite con me, venite, dobbiamo fare le ragazze immagini, noi stiamo qui così, signori, dobbiamo fare un cambio di auto, venite, venite, non ci metta sotto, 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 non